Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Ora vi farò vedere una mia base costruita da me Lego, guarda Come si potrebbe vedere Allora, già da qui si può vedere Un uovo che sta caricando un montaio Un uomo di guardia che sta caricando un montaio Ora vi farò vedere che ci stanno anche una cassetta con altri missili Qui ha un manomissile Poi lì c'è il soldato di guerra Un computer Guarda ora, voglio vedere anche quest'altro Quest'altro qui Un piante, sembra che sta prendendo Con un AK-47 Questo qui è un mitragliatore con silenziatore Poi sopra Come si può vedere Non so se vedete bene C'è un cerchino appostato Non so se vedete bene Un cerchino Ecco qua Allora E qui è la mia base E ora vi farò vedere la camionetta Allora Allora Una camionetta blindata Ah, questo offrire qui Per Sparare ai nemici Qui si apre Aspettate Ah, aspettate Questo bellissimo cararmato è di Lego Star Wars Spara veramente Beh, ora Non so perché dicono state attenti a non mandarli negli occhi Perché Sparano a mezzo centimetro Vabbè Ehm Bene a tutti ragazzi E al prossimo video Allora Ciao Ciao